buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar organizzato da me e io sono silvia di rosa lavoro in engine soft e sono la referente per le tecnologie ansys granta e oggi ho pensato di proporvi la declinazione dell'utilizzo di queste tecnologie applicate al medicale al farmaceutico i materiali destinati al settore farmaceutico e al settore medicale devono soddisfare in funzione dell'applicazione finale vari requisiti definiti da complesse e numerose normative ovviamente essendo componenti materiali che entrano in contatto con l'essere umano con le persone non devono contenere all'interno sostanze che siano pericolose per la salute devono ovviamente essere inerti e biocompatibili non sempre le informazioni legate a queste proprietà specifiche dei materiali da utilizzare in ambito medicale sono di facile individuazione e reperimento vi racconterò un po come le tecnologie ansys granta sono riusciti ad essersi costruiti una chiara riconoscibilità anche in questo ambito un po di storia allora granta è una società che è localizzata a cambridge ed è stata fondata negli anni 90 da due professori dell'università di cambridge uno dei due questo qui più anziano che è morto qualche anno fa è il professor ashby ed è appunto uno dei fondatori di questa di questa azienda il professor ashby è noto a tutti i materialisti agli ingegneri per le sue famose mappe le mappe di ashby sono delle mappe in cui in funzione di proprietà che vengono graficate in x e in y si riusciva a rappresentare in maniera chiara e facilmente leggibile e come i vari materiali si distribuiscono all'interno di uno spazio appunto determinato dalle grandezze poste in x o in y quindi per la prima volta c'era un professor ashby ha creato uno strumento che ci consentisse di andare a leggere con facilità le proprietà dei materiali e soprattutto di andare a confrontare un materiale con l'altro semplicemente utilizzando questo strumento grafico granta appunto è stata fondata nel 1994 è cresciuta molto negli anni e lo scorso anno e la ansys e ha deciso di costruirsi il business unit materials acquisendo questa azienda la libreria granta è una libreria molto compressa ed è sostanzialmente la fonte di informazioni che sta alla base di tutte le tecnologie granta dal database granta si suddivide in un core database che vedete qui che è sostanzialmente il database di default che c'è in tutte le tecnologie granta e poi ci sono degli addon che sono chiamati material bundle specifici in funzione del settore di interesse per le aziende clienti c'è il settore material bundle metalli il material bundle polimeri material bundle compositi il product risk c'è il material bundle specifico per il medical poi c'è l'aereo l'additive e poi ci sono dei material bundle specifici in cui abbiamo delle informazioni aggiuntive legate alla compatibilità dei materiali focalizziamoci visto il tema della conversazione di oggi sul medical nel medical abbiamo l'asm medical materials sostanzialmente all'interno di questo di questo database abbiamo tutte le informazioni legate ai devices per il cardiovascolare l'ortopedico il neurologico il chirurgico eccetera ed è il database universalmente riconosciuto in cui vengono inserite tutte le informazioni proprio legate ai devices per le varie applicazioni mediche c'è anche lo human biological materials sostanzialmente qui dentro ci sono tutte le proprietà meccaniche legate alle cartilagini alle ossa ai tendini ai denti e quindi al a tutto ciò che va a costituire l'essere umano quindi sostanzialmente avendo la possibilità di acquisire il medical material bundle noi abbiamo a disposizione tutto lo scibile legato all'essere umano con lo human biological materials e a tutti i materiali utilizzati per le varie per i vari settori della medicina non ci sono soltanto informazioni di materiali ma ci sono anche le informazioni specifiche legate all'utilizzo di tali materiali per determinate applicazioni quindi qui è la descrizione di che cosa c'è all'interno dell'asma di medical bundle e poi sostanzialmente all'interno dei database e degli strumenti granta si possono inserire tutti questi queste informazioni legate a dei database già confezionati già esistenti ma c'è anche la possibilità per le aziende di inserire tutte le informazioni legate ai materiali proprietari sviluppati in azienda qui ci sono una serie di partner tecnologici e di collaborazioni che la grant ha creato negli anni e come vedete c'è tra le più importanti c'è l'asma international i prodotti granta e vi faccio semplicemente un focus veloce per poi andarvi a descrivere in dettaglio alcune applicazioni legate proprio al medicale delle tecnologie sono tre prodotti granta uno è si chiama material data for simulation poi abbiamo il granta selecto e poi abbiamo il granta e mai granta e mai pro il material data for simulation è un database di 700 materiali che direttamente annegato all'interno del contesto ansys workbench e non so se siete già clienti ansys ma nel momento in cui avete una licenza ansys c'è la possibilità di implementare le informazioni disponibili sui materiali con questi 700 materiali aggiuntivi il granta selector invece è un prodotto stand alone che consente di costruire dei veri e propri progetti per andare ad individuare delle alternative rispetto ai nostri materiali normal produzione oppure per andare ad individuare un materiale che mi consenta di rispondere a tutta una serie di prerequisiti che io devo soddisfare e quindi in maniera piuttosto semplice e veloce mi consento di mi consente di fare delle scelte legate all'innovazione sui materiali per le applicazioni specifiche il granta e mai pro e granta e mai sono quelli che vengono chiamati e i plm dei materiali i plm dei materiali servono quando nelle aziende soprattutto quelle di grosse dimensioni o comunque che hanno diversi gruppi di lavoro non sempre e gioca giograficamente localizzati nello stesso posto il plm serve per sostanzialmente razionalizzare e tracciare tutte le informazioni di materiali che attraversano le aziende questo consente ovviamente di fare grossissima efficienza perché spesso nelle aziende le informazioni legate ai materiali non sono facilmente fruibili e condivisibili efficienza e la consente la possibilità di avere una chiara tracciabilità di tutte le informazioni che appunto sono collegate all'utilizzo dei materiali in azienda ce ne sono due versioni il grant e mai enterprise quello per le aziende proprio di grosse dimensioni e poi un pacchetto più semplice che può essere applicato anche alle piccole e medie imprese che si chiama granta e mai pro allora gli strumenti granta mi consentono come vi dicevo di fare delle scelte di materiali che possono essere governate da vari fattori che mi devono mi condizionano nelle mie nelle mie valutazioni uno di questi potrebbe essere la riduzione dei costi ci sono degli strumenti anche visivi che mi consentono con facilità di andare a rappresentare le mie alternative al materiale normal produzione tra queste le famose mappe di ashby le tabelle di comparazione in cui io sostanzialmente mi vado a rappresentare il confronto dei data sheet tra i materiali normal produzione e quelli alternativi che vado ad individuare e poi ho la possibilità di esportarmi i data sheet dei materiali e che vado ad individuare come alternativi o comunque come ottimali per la mia applicazione li posso esportare in formato compatibile con i fam più tradizionali o quant'altro e quindi io posso anche poi utilizzarli con altri strumenti all'interno di altri strumenti ansys in primis ci sono dei moduli specifici che mi consentono di avere informazioni sull'eco audit tool sull'eco audit ovvero sull'impatti ambientali generati dall'utilizzo di un materiale piuttosto che da un altro poi ci sono degli ulteriori tool che mi consentono anche di costruire dei materiali particolari in particolar modo materiali compositi per i quali non sempre sono reperibili le informazioni specifiche mi vado a costruire il mio materiale composito inserendo le caratteristiche della matrice e delle cariche e mi ottengo appunto delle informazioni semplificate ma di delle proprietà che tale composito potrebbe avere le informazioni sui materiali spero di essere riuscita a mandare a passare questo messaggio sono quella che viene chiamata la gold source la fonte d'oro però sono semplicemente il punto di partenza perché non basta avere un database per riuscire a trovare con velocità e dei materiali alternativi alle mie per le mie applicazioni ho bisogno per l'appunto di questi strumenti granta che mi consentono di realizzare progetti complessi che mi permettano appunto di fare innovazioni trovando delle alternative sui materiali ora vi faccio qualche esempio beh il grant e mai è il plm come vi dicevo una cosa interessante che permette anche di fare è avere un'analisi critica di quelle che sono le bill of material alle distinte base e quindi in tempi rapidi nel momento in cui la bill of material è costruita utilizzando le connessioni che vengono chiamate gateway con gli strumenti granta e quindi utilizzando direttamente il database granta per andare ad associare in vari materiali alle varie linee della distinta base se si fa questa cosa cioè se si hanno a disposizione questi strumenti si riesce anche a generare una tabella molto semplica semplificata nella quale ho in modo rapidissimo le compliance o meno delle varie voci della mia distinta base con le direttive vigenti per a me per me di interesse quindi in funzione del mercato all'interno del quale poi devo andare a proporre il mio prodotto le norme per il settore farmaceutico e per il settore medicale sono varie i requisiti possono essere diversi in funzione dell'applicazione tra le più importanti per il settore farmaceutico c'è la norma americana usp che prevede classi da uno a sei e le come dire gli aspetti sui quali bisogna porre attenzione sono quelli di cito tossicità reattività intracutanea tossicità sistemica acuta eccetera le norme per il settore medicale sono regolamentate della direttiva 93 barra 42 barra cie che suddividi dispositivi in classe da uno a tre in funzione dell'applicazione che cosa fa granta granta e ci consente di avere tutte le informazioni ovviamente con l'acquisizione di quel material data bundle medical specifico del quale vi parlavo prima ci consente di avere tutte le informazioni legate alle apparecchiature mediche che corrispondono alle che rispondono alle direttive usp classe 6 iso 10.993 le 10.993 sono quelle che consentono di fare valutazioni biologiche test di biocompatibilità e mi dà informazioni legate alla resistenza chimica dei materiali e al fatto che possono essere sterilizzati mi dà informazioni interessanti e importanti anche legate alle caratteristiche di alleggerimento che questi materiali possono consentire in fase di valutazione di alternative e poi ho delle informazioni specifiche come vi dicevo in funzione anche delle applicazioni specifiche questi materiali e possono permettere e quindi io se ho un determinato materiale polimerico o tutta la lista di quelle che sono le applicazioni standard in medicina di quel materiale avere questi strumenti mi consente di avere dei risparmi di tempo e di costi sia diretti che indiretti allora diretti è facile perché io non devo andare a ricercare tramite i fornitori informazioni specifiche perché ce le ho già le ho già contenute all'interno di questi database poi posso avere anche dei risparmi indiretti perché ovviamente io evito di fare tutta una serie di caratterizzazioni di materiali che mi servirebbero per fare delle scelte perché queste informazioni le ho già all'interno dello strumento come qui qui vedete tutta una serie di clienti grossi delle tecnologie granta suddivise per settore industriale come vedete nomi importantissimi in primis queste compagnie della johnson and johnson du poi ed eticon legate proprio alla produzione di componenti medicali la eticon e la du pont e la du poi e producono componenti di vario tipo qui vengono messi soltanto alcuni quindi partiamo dalle componenti di tipo metallico anche componenti plastici eccetera ora vi racconto alcuni casi e alcuni testimonial che hanno utilizzato questi strumenti per le loro applicazioni e la prima azienda è la novo nord nordisk questi qui questa azienda produce materiali iniettabili prodotti iniettabili prevalentemente utilizzato nel trattamento di condizioni di malattia di diabete e di emofilia e la novo nordisk ha utilizzato il granta selector per fare appunto delle scelte di materiali alternativi per l'utilizzo di forcipi e perché realizzano prodotti iniettabili ma anche prodotti tipo forcipi e è stato uno strumento utile perché ha consentito loro di individuare delle alternative che minimizzassero i costi e minimizzassero il volume del componente facilmente impostando un progetto in cui sono state impostate delle varie varie condizioni al contorno che vedete rappresentate in questa slide e quindi in velocità sono riusciti a trovare delle alternative ai materiali utilizzati normalmente per la ridazione di questi di questi forcipi come vedete ovviamente tra i vincoli abbiamo la biocompatibilità un'informazione che è annegata all'interno del database medical abbiamo la possibilità della sterilizzazione che deve essere buona o eccellente e poi tutta un'altra serie di parametri che vengono definiti per impostare il progetto un altro esempio è questo qui di di eticon e loro utilizzavano appunto strumenti per la chirurgia quindi utilizzavano sostanzialmente delle garze e anche loro sono riusciti a trovare delle scelte alternative dei materiali per arrivare al loro obiettivo legato in particolar modo alla ecocompatibilità del materiale a fine vita un'altra applicazione che potrebbe sembrare quasi come dire calzante visto il periodo che ci troviamo a vivere è quello di a irinum a irinum è un'azienda che come vedete produce delle mascherine filtranti e quindi assolutamente di attualità e loro sono clienti granta hanno utilizzato le tecnologie granta per cercare di trovare delle tessuti perché in granta ci sono anche informazioni legate ai tessuti utilizzati per il medicale dei tessuti che consentissero di ottimizzare il processo di riciclo a fine vita come vedete qui c'è il l'amministratore delegato e fondatore di questa azienda che scrive un commento dicendo che l'utilizzo di questi strumenti ha consentito loro di realizzare un progetto che li aiutasse appunto ad avere un focus a tutti quelli che erano gli aspetti ambientali e gli impatti ambientali generati dai loro prodotti il tool utilizzato per fare questo era le code tool e che ci consente appunto di andare a stimare quelli che sono gli impatti ambientali e la produzione di co2 per la realizzazione determinato componente e per la gestione del fine vita del componente stesso allora per i medical device come vi dicevo possiamo utilizzare gli strumenti di primo al granta selector che mi consentono appunto di andare ad individuare e quelle che sono le alternative individuando il material se le impostando il material se riuscendo costruendo il progetto di riferimento e avendo anche delle informazioni specifiche sulle applicazioni e dei vari materiali per determinati settori medici questo è il database completo che c'è all'interno degli strumenti granta c'è la possibilità di fare semplici ricerche di un materiale c'è la possibilità di fare delle ricerche inserendo parole chiave si possono visualizzare data sheet si possono andare a individuare quelli che sono le fonti di questi data sheet e andare poi a vederne il dettaglio e poi posso graficarmi le mie famose mappe di ashby cui vado a rappresentare le grandezze in x in y che sono di per me di maggiore interesse c'è una funzione che si chiama fine similar che mi consente di trovare anche tutti i materiali più simili rispetto al mio materiale di riferimento e quindi ho tutta una serie di strumenti che con facilità mi danno delle informazioni aggiuntive nel momento in cui devo partire con un nuovo progetto mi vado a visualizzare e quindi a confrontare le varie proprietà dei vari materiali nelle famose mappe di ashby quindi facilmente leggibili e mi posso realizzare le tabelle di comparazione allora il progetto come approcci convenzionali quando devo fare innovazione sui materiali sono chiedo colleghi chiedo al vendor cerco di farmi delle ricerche sui informazioni che ho disposizione su sulla rete il la metodologia invece razionale e che è quella che consente di fare delle scelte molto più mirate e molto più puntuali utilizzando gli strumenti che vi ho presentato è io parto dallo scibile sui materiali pongo io delle condizioni che devono essere soddisfatte mi pongo io il mio riferimento di partenza e vado ad individuarmi la soluzione ottimale per la mia applicazione queste vabbè queste sono ancora mappe di ashby dove si vanno a vedere come si distribuiscono i materiali in funzione del cost for unit stiffness e della permeabilità solo per farvi vedere e adesso vi faccio alcuni esempi due esempi specifici sempre utilizzando gli strumenti grande il primo è la cannula per l'artroscopia sostanzialmente a cosa serve questa cannula viene inserita nelle cavità della delle ossa perché viene fatto sostanzialmente per le in maniera prioritaria per le spalle per il ginocchio e quant'altro viene inserita e attraverso questa cannula si introduce una rete di fibre ottiche che fungono sia da sorgente luminosa che da telecamera quindi sostanzialmente è la telecamerina che il chirurgo ortopedico deve avere per capire come deve gestire l'intervento quindi il materiale che va a costituire questa cannula deve essere biocompatibile deve essere trasparente e ha dei vincoli geometrici perché non non posso incrementare il raggio esterno della cannula stessa il materiale deve essere facilmente formabile quindi deve avere un eccellente moldabilità e fluidificazione e deve essere un polimero a bassa viscosità allora come trovi le alternative lo puoi puoi trovarle senza chiedere quotazioni specifiche ai supplier ai fornitori perché tutte le informazioni all'interno dello strumento non hai bisogno di contattare il supplier neanche per avere informazioni legate al prezzo dei materiali perché all'interno del material bundle medical hai anche le informazioni sui materiali quindi e poi hai tutte le informazioni legate a quali materiali sono utilizzati nelle applicazioni simili mi imposto il progetto all'interno del granta e mi vado a rappresentare una geometria semplificativa che mi può andare a descrivere il mio componente in questo caso andiamo a semplificarlo con un un albero intorsione in cui io ho come grandezze fisse il raggio e la lunghezza ma ho la possibilità di variarne il lo spessore delle pareti i vincoli ovviamente la biocompatibilità deve essere trasparente deve essere deve avere una buona stabilità dimensionale e una buona formabilità gli obiettivi minimizzare lo spessore delle pareti e minimizzare il costo quindi imposto questo progetto i risultati mi consentono di trovare delle alternative veloci rispetto al mio materiale nella produzione mi consentono di trovare un buon trade off che mi dia ottime caratteristiche di rigidezza di costo e di volumi produttivi perché io riesco ad avere anche delle informazioni legate ai volumi produttivi minimi che mi rendono economicamente vantaggioso l'utilizzo di materiali piuttosto che l'altro poi ho quindi quindi questo è un primo modo di utilizzare gli strumenti quindi cercare io il mio materiale ottimale che mi risponda a determinati requisiti un secondo modo è fare un replacement del materiale standard attualmente il materiale per realizzare queste cannule per l'artroscopia sono questo è questo macrolon rx 1452 che è un policarbonato specifico per i medical devices quindi io mi impongo questo come riferimento e mi vado a cercare i materiali più simili con una funzione che si chiama appunto fine similar materiali più simili che comunque mi consentano di rispettare tutte le indicazioni e le condizioni al contorno che avevo rappresentato prima quindi velocemente trovo anche la possibilità di individuare un drop in replacement cioè un materiale che mi consente a velocemente di fare una sostituzione quindi con un click one click o tutte le alternative possibili che mi consentano di raggiungere le medesime performance col granta selector ho accesso a tutte le informazioni di materiali o i tool per trovare i materiali di interesse e o per l'appunto il link alla medical materia ea tutti i supplier i data sheet dei supplier il benefici è che io riesco realmente a focalizzarmi sui materiali maggiormente appropriati e ad identificarne i benefici e le differenze in termini di performance rispetto alla normal produzione e ho un incremento ovviamente della confidenza anche della affidabilità nella scelta del materiale un altro esempio che vi faccio vedere è questo box questa scatola per gli strumenti utilizzati in chirurgia allora ad oggi vengono fatte frequentemente prevalentemente in acciaio inox in stainless steel questa cosa ha un limite cioè è pesante e soprattutto non vedo cosa c'è dentro quindi l'azienda nostra cliente stava cercando delle alternative che consentisse di utilizzare un polimero materiale polimerico trasparente in modo da vedere che cosa c'è dentro quindi qual'era la sfida che polimero uso dove trovi dati dove trovo anche le informazioni legate ai prezzi e alla compliance con la direttiva rich questo era per mercato europeo come posso identificare e le varie alternative senza dover contattare i fornitori e farmi dare informazioni di dettaglio dei fornitori o comunque come posso anche avere le informazioni senza dovermi fare io delle caratteristiche delle caratterizzazioni in casa facendo dei test specifici in questo senso lo strumento granta è assolutamente lo strumento che serve per seguire progetti di questo tipo si costruisce il progetto la mia scatola viene rappresentata come vi dicevo con una geometria esemplificativa con una piastra un pannello caricato e pongo delle condizioni al contorno lascio libero lo spessore anche perché uno degli obiettivi anche l'alleggerimento i vincoli sono che sia un medical grade cioè quindi un materiale per il medicale che sia sotto che possa essere sottoposto a cicli di sterilizzazione che abbia una resistenza d'impatto che sia trasparente e che sia un near net shape cioè nel senso che non richieda di essere costituito da troppi componenti ma che consenta di avere un componente finale near net shape cioè vicino e al componente che vogliamo realizzare senza richiedere anche troppe spese o troppi investimenti per l'assemblaggio di più parti l'obiettivo minimizzare la massa come abbiamo detto minimizzare nel costo e minimizzare il rischio che presentino sostanze pericolose qual è il polimero da scegliere imposto il mio che stadi all'interno della granta degli strumenti granta e riesco ad individuare ponendo le varie condizioni al contorno e rappresentandomi e una massa mappa di ashby che ha un in x il cost per unit of stiffness e in y la massa la massa quindi costo verso massa riesco ad identificarmi questi materiali come vedete il materiale di partenza è questo stainless steel a easy 304 poi mi sono focalizzata sui polimeri quindi questi sono tutti i materiali polimerici quelli rossi sono quelli che contengono i maggiori rischi in termini di sostanze pericolose quelli blu sono quelli invece che sono quelli meno pericolosi da un punto di vista appunto della direttiva ricce quindi sostanzialmente il psu e il pay che sono il polietilene mine e il psu e polisulfone e sono quelli che consentono alleggerimento del 40 per cento il psu però e psu ha un basso rischio del di contenimento di sostanze pericolose quindi sostanzialmente io andrò a lavorare su questi due materiali alternativi per cercare di appunto utilizzarli per questa applicazione legata proprio al box per gli strumenti da utilizzare in sala chirurgica quindi va approfondito il tema quindi velocemente si sono trovate queste sono già dei materiali utilizzati per il medicale anche per applicazioni simili quindi sostanzialmente si va a trovare con grandissima velocità il mater dei materiali alternativi al mio materiale a easy 304 che ad oggi è utilizzato per la realizzazione di questo componente questo è poi la box finale che è stata realizzata da questa azienda cliente come vedete con il materiale polimerico assolutamente trasparente quindi quello che vi volevo raccontare oggi è appunto come alcuni strumenti possano diventare strumenti utili per il vostro lavoro quotidiano nel momento in cui vi dovete trovare a fare delle scelte alternative dei materiali e non sapete effettivamente da dove iniziare e ovviamente io non vi ho aperto lo strumento non volevo farvi una demo di prodotto ma vi volevo semplicemente raccontare come gli strumenti possono essere utilizzati in questo ambito applicativo vi assicuro che costruire questi progettini all'interno degli strumenti granta è veramente semplice e gli step da seguire sono chiari e molto user friendly e soprattutto c'è una facilità nell'individuazione dell'alternativa anche con l'utilizzo di queste famose mappe di aspi che rappresentano e consentono da questi strumenti di rappresentare un supporto decisionale fondamentale per le aziende io vi lascio i miei contatti mi auguro che questo breve webinar sia stato di vostro interesse ci possiamo risentire se avete delle domande particolari possiamo comunque già farle o comunque ci possiamo risentire qui avete la mia mail e il mio numero di telefono e vi ringrazio per l'attenzione e niente lascio la parola al marketing per la chiusura grazie a tutti